Buonasera, sono Carella Michele Arcangelo, vengo da Canosa di Puglia, mi sono ritrovato qui a Bologna. Intanto voglio ringraziare la prestanza, la situazione di accoglienza che ho avuto in questa città, ma fatto sta che gli ultimi anni che sono andati in declino sono andati così male per tutti quanti che sono dovuto ristare in questa situazione. Adesso sappiamo che per il 31 di questo mese finisce tutto e noi comunque non abbiamo una casa, non abbiamo un riparo dove andare. Il 31 marzo finisce il piano freddo e centinaia di persone a Bologna che ora sono ospitati in varie strutture, i dormitori rischiano di trovarsi per strada. Ovviamente riteniamo che queste strutture non siano idonee a dare una risposta a un problema che in gran parte è il problema della casa. Ci sono necessarie risposte strutturali e non emergenziali come i dormitori. Detto questo riteniamo anche che il 31 marzo le persone non debbano finire per strada e come primo punto chiediamo che venga subito prolungato il piano freddo, che venga dato in alternativa un'altra possibilità reale di sistemazione a queste persone. Grazie a tutti.